Il nuovo presidente di Tua SPA, la Società Unica Regionale di Trasporto, è Tulio Tonelli, 74 anni, di Pescara. La nomina è arrivata nel corso dell'Assemblea dell'Azienda in cui la Regione, socio unico di Tua, era rappresentata dal presidente Luciano D'Alfonso, che ha parlato di soluzione interinale nella speranza che Tua possa riguadagnare, appena si chiariranno gli aspetti sospesi, l'impegno istituzionale di Luciano D'Amico. Tonelli vanta una lunga esperienza nel settore del trasporto pubblico, ha lavorato per oltre 44 anni alla GTM. Ritorno in azienda dopo 10 anni, trovando un'azienda notevolmente sviluppata perché l'accorpamento delle tre società ha sicuramente prodotto anche una diversa organizzazione, molto più complessa. Però, ecco, dopo aver passato 44 anni nel campo dei trasporti, sono convinto di poter dare tutto quello che posso, cosa che farò ben volentieri. Nel settore dei trasporti l'impegno ci vuole perché sono società di servizi, quindi a servizio della collettività e devono cercare di utilizzare al meglio le risorse in favore delle popolazioni. All'Assemblea dei soci sono intervenuti anche i rappresentanti dei sindacati aziendali che hanno accolto con favore la nomina di Tonelli ai vertici di Tua. Era presente l'ex presidente Luciano D'Amico che ha tracciato un quadro dei risultati raggiunti dalla società unica che ora, ha sottolineato, è un player nazionale in grado di affrontare le prossime sfide del settore grazie a un rating che ormai è di piena affidabilità e di un recupero di valore passato dai meno 2 milioni di euro del 2015 ai più 15 milioni di euro dello scorso anno. Il presidente D'Alfonso, che ha ringraziato D'Amico per il lavoro svolto, auspicando di poter contare ancora sul suo apporto, ha invitato il consiglio di amministrazione di Tua, di cui fanno parte anche Guido Dezio e Gianni Di Vito, a concentrare gli sforzi su due punti fondamentali, l'acquisto di beni e servizi, così da liberare risorse finanziarie e da poter reinvestire sulla società, e la lotta all'evasione.